Oggi siamo al centro commerciale Il Tiburtino e abbiamo chiesto ai commercianti quali sono i loro pareri sull'evento. E all'interno del centro commerciale stanno andando bene le cose, indossano le mascherine? Le mascherine le indossano al 90%, ci sono persone che non le indossano, anche se sono le citate le abbassano. Qual è il bilancio di quest'anno? Il bilancio è basso rispetto all'anno scorso, anche se noi rischiamo a mantenere quasi lo stesso livello, ma è basso. Ha paura che si possa ritornare a una situazione di lockdown? Paura sì, ma non credo che gli italiani accettino questa cosa. Come pensa che ci organizzeranno i commercianti con il Black Friday e Natale? No, su questo non posso rispondere. Allora, come sta andando il bilancio di quest'anno? Rispetto all'anno scorso ci sono stati giorni più che abbiamo guadagnato un po' di più rispetto allo storico, per la ripresa che hanno riaperto le scuole. Quindi noi, essendo un negozietto di bambini, abbiamo potuto vendere un po' di più rispetto all'abbigliamento da grande, perché con la riapertura delle scuole le mamme hanno acquistato. Però rispetto all'anno scorso c'è una grande perdita. Tra l'altro siete stati tra i primi voi a riaprire? Sì, i bambini sì. Erano risultati come i negozi di prima necessità. Nel Natale faremo delle promozioni, già del 50 sia per i federizzati che per i non federizzati. Per il Black Friday solitamente noi l'anno scorso non abbiamo fatto promozioni e-mail che ci diranno loro di farlo o meno, vista la situazione. A proposito della situazione di quest'anno, pensi che si stiano rispettando le regole? Non del tutto. Non è chi li rispetta. Alcuni ancora entrano con la maccherina abbassata, quindi la tengono, però casomai il Natale rimane fuori e non aspettano per entrare, quindi entrano anche vedendo che dentro al negozio c'è tanta gente, quindi dobbiamo noi chiedere poi la cortesia di farli uscire. Quindi dipende, alcuni sì, alcuni un po' meno. Allora, l'andamento di quest'anno ovviamente ha risentito di tutta la situazione, però piano piano stiamo riprendendo, dai. Mi vedi che le regole vengono rispettate, la mascherina? Abbastanza, devo dire sì, la mascherina al 100%, anche l'igilizzazione delle mani. Visti anche i recenti decreti e le restrizioni, pensi che si possa ritornare ad una fase 2 primordiale in cui c'è la fila fuori, un numero totale di persone che possono entrare? Beh, magari in vista anche delle festività natalizie potrebbe essere. Ecco, a maggior ragione, proprio per festività natalizie e Black Friday, vi state organizzando o pensi che vi organizzerete nel breve termine? Ci organizzeremo nel breve termine. Guardi, questo abbiamo ristampato, perché tanti clienti entrano, se tu le dici, guarda signora, torde anche il lasso, si arrabbiano pure. Ok. Tanti volte vanno in camerini, si misurano la roba e tolgono le mascherine. E' quello che mi fa ridi di più, che quando parlano, tolgono la maschera. E l'andamento, insomma, di quest'anno com'è stato? Molto o meno rispetto all'anno scorso. Ho capito. Quanto o meno? C'è tanto proprio. C'è tanto. Vabbè. 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 Vabbè.